eccoci qui collegati dal ristorante della baia di g fuori il ristorante della baia g in compagnia del nostro alessio ciao alessio ciao buonasera posso farti qualche domanda certo alessio allora volevo domandarti innanzitutto come conosciuto gb viaggi gb viaggi l'ho conosciuto tramite internet mi ha incuriosito ho visto le offerte che avevano ho prenotato presso questa struttura ora che hai fatto già questa è la seconda settimana questa è la seconda anzi è la seconda settimana intervallata perché sei andato via poi sei ritornato come cosa puoi dire della qualità prezzo di gb viaggi la qualità prezzo è ottima struttura molto carina animazione inutile che lo dico che davo bravissimo il resto dello staff altrettanto mi sono trovato bene per tornarci una seconda volta intervallata da 15 giorni vuol dire che sono stato bene ma io lo scoop in diretta ti stai per fare la terza settimana incredibile la terza settimana ci siamo trovati così bene che abbiamo deciso di farci un'ulteriore settimana dico è inutile proseguire dopo questa dopo questo scoop che neanche i tuoi figli sanno assolutamente no quindi che ti fai la terza settimana noi salutiamo alla maniera di reggaetano come si saluta bella gente bell'ambiente non vi manca assolutamente niente ciao ciao alessio ciao a tutti